Frittata di zucchine e cipolla rossa di tropea Ti piacerebbe preparare una frittata senza bisogno di girarla? Guarda com'è facile con Magic Cooker Versa un giro d'olio in una padella antiaderente a bordo alto Unisci le zucchine e la cipolla, copri con Magic Cooker e cuoci circa 4 minuti a fiamma alta girandole una sola volta a metà cottura Nel frattempo batti le uova con sale e pepe Versale in padella e gira il composto 2-3 volte con movimenti circolari dall'esterno verso l'interno Copri con Magic Cooker e cuoci 5-6 minuti a fiamma bassa Trascorsi 5-6 minuti spegni il fuoco e lascia 3-4 minuti in autocottura con Magic Cooker Terminata l'autocottura solleva Magic Cooker in posizione orizzontale Asciugalo dalla condensa, riposizionalo sulla padella e lascia riposare un paio di minuti Ora la frittata è pronta per essere capovolta e servita su piatto da portata